Brasile e Olanda del 74 era una cosa spaventosa l'Olanda del secondo tempo, cioè c'era Mario Marigno e Francisco Marigno che erano due giocatori, sono i difensori brasiliani, non erano tutti non sapevano dove mettere le mani, non sapevano quel che fanno perché decisamente questi andavano a velocità a dubbio gli partì Neskens sulla sinistra perché Mario Marigno era quello nero capito a panettone, invece Francisco Marigno era quello più ondo, bello e mi ricordo che gli piacciono l'entrata Neskens e Mario Marigno che oggi come oggi ci danno otto anni di squadrifica e Marigno ti tocca pagare il caffè, ma non è anche lei pagare il caffè io lo volevo un caffè, allora l'ha preso a porta, ma non c'è un bicchierino, no avevo trovato, avevo trovato la giacca della tuta dell'Eintrack Francoforte di 1980 era una S ma arrivarono a parte 6 la parte 6 ma che mai? si ma che mai? si quanti o quattro anni saranno? si parla di primi anni 90 io ci sto parlando ma non solo ma ricordi nel sbaglio a maratone quando era? no ancora lo sbaglio a qui se siamo in gioco a piccino no 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 che mi spenziava? ora è una rama pubblicità che non la da pubblicità esistiamo io lo dico io perché devo una dita a mandare più di orle te la dito obrigado legami in scuola, guardi a cattarmi il Milan mi sembra per un gioco ma perché siamo scazzi ma perché siamo scazzi ma di che? ma il Marcellona va a Catalia le maglie e mangia tre figli di Napoli Pena come mai Napoli Pena dopo che hai battuto con Dinesi non ride quello ride ci vediamo bene al prossimo un'altra puntata di Caracolla in attesa di Caracolla poi che è? eh è roba forno è roba forno è una trasmissione fa la trasmissione a Nike invece che fa darti l'idea a Lidl a Lidl a Lidl a Dine a Dinesi a Dinesi Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.